Grazie Greta, grazie come sempre ad Askeri Academy, a Simona, a Guido, è sempre per me un piacere e direi anche un onore essere coinvolto in queste attività formative. Oggi siamo in questo percorso, ci dedicheremo un'oretta di tempo insieme per parlare della joint venture sotto il profilo della legge italiana con qualche esempio di natura internazionale, quindi a carattere sovranazionale, sotto il profilo direi esclusivamente legale. Per cui direi che possiamo iniziare subito a entrare nel vivo della questione. Dunque, cos'è la joint venture? Allora, con il termine joint venture vengono indicate le varie e diverse forme di associazione temporanea tra due o più imprese, finalizzata all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, come l'esecuzione di un'opera, la prestazione di particolari servizi, il compimento di un singolo affare. Entriamo subito con degli esempi concreti che ci ritroveremo poi man mano nel corso della presentazione, nel corso di questo incontro. Ipotizziamo il caso che io sia in Italia un produttore di un macchinario industriale di elevato profilo tecnico e che richiede evidentemente anche un grosso know-how. È evidente che come tutte le imprese voglio espandere il mio business e magari voglio espandermi all'estero. Prendiamo un territorio a caso, non so, la Cina, il Brasile, gli Stati Uniti. È evidente che per poter entrare in quel mercato probabilmente ho bisogno di cosa? Di un partner. Ho bisogno di un partner perché ho il macchinario più bello del mondo che mi produco in Italia, ma se non ho detto in maniera veramente semplice l'aggancio in Cina, in Brasile, negli Stati Uniti, evidentemente per quanto il macchinario sia bello, questo non è in grado di essere presentato sul mercato. E allora magari cosa mi vado a cercare? In Cina, in Brasile, negli Stati Uniti. Mi vado a cercare il partner attivo più o meno nel mio settore di riferimento che ha che cosa? La rete. Per esempio alla rete commerciale, alla rete di vendita, alla rete di distribuzione. Quindi cosa abbiamo qui? Abbiamo un progetto in cui io sono l'imprenditore che ho il macchinario, il mio partner estero e l'imprenditore che nella suo stato ha la rete commerciale, ci mettiamo insieme e creiamo un progetto per lanciare sul mercato questo prodotto. Quindi capiamo bene che la joint venture è l'incontro di due, a volte anche più, ma per farla breve, due realtà imprenditoriali che ciascuna delle quali porta la propria competenza, il proprio servizio tecnico rispetto ad un esito finale che deve ovviamente generare profitto e valore. Questa è proprio la natura e lo scopo di quello che con questo esempio vi ho appena detto. Cioè possiamo ritrovare svariate forme di collaborazioni e pluralità di schemi societari la cui scelta è di volta in volta influenzata e suggerita dalle specificità del business. Vengono valutate nel creare una joint venture le forme di cooperazione al fine di ridurre i rischi e i costi ed esaltare le peculiarità di ciascuna di esse. È proprio l'esempio che facevamo prima. Se io ho il macchinario e il mio partner alla rete dovremo individuare che cosa? Il vestito migliore perché questo progetto possa funzionare. In Italia possiamo già dire che le joint venture costituiscono una fattispecie del tutto atipica. È bene sapere da subito che in Italia la joint venture non ha una sua legislazione. La joint venture indubbiamente è un istituto mutuato dal diritto anglosassone che ha ormai applicazione a livello internazionale, IVI compresa ovviamente l'Italia. Quindi quando parliamo di joint venture in Italia dobbiamo ipotizzare di fatto un'operazione tipicamente contrattuale o tipicamente societaria. Nel senso che come vedremo a breve la joint venture può essere solo contrattuale e quindi qui evidentemente il professionista deve avere una forte specializzazione nella materia contrattuale oppure la joint venture può essere societaria. In questo caso accanto comunque alle competenze di tipo contrattuale che sono sempre necessarie anche nel diritto societario è ovviamente richiesta una conoscenza direi anche del diritto societario. ed infatti le joint venture costituiscono appunto una fattispecia tipica e i partners cioè coloro che creano una joint venture sono di volta in volta liberi di scegliere lo strumento societario le modalità di controllo interno, le modalità di ripartizione dei profitti. La joint venture, la costituzione della joint venture è normalmente preceduta direi come in qualsiasi operazione a carattere straordinario da un processo scandito di diverse fasi. Prima di tutto la presa di coscienza della necessità di un accordo per poter conseguire i vantaggi strategici. Torniamo all'esempio di prima. Io ho un macchinario stupendo, innovativo, super tecnologico ma ovviamente per avere i benefici attesi dalla vendita di quel macchinario mi rendo conto che l'Italia non mi basta devo internazionalizzare, devo vendere all'estero e questa che cos'è? È la presa di coscienza, no? E a quel punto una volta che prendo coscienza che il mio macchinario potrebbe avere fortuna in un paese straniero cosa devo fare? Devo scegliere i partner con cui attuarli quindi si richiede una primissima fase puramente esplorativa di investimenti che serve per andare nel territorio come dire target che può essere anche l'Italia per uno straniero o un paese straniero per noi italiani per individuare il partner ritenuto più affidabile. Fatta questa fase preliminare ovviamente a cosa passiamo? Passiamo alle fasi della trattativa e quindi dovremo sicuramente stipulare e sottoscrivere accordi di riservatezza lo vediamo qui non disclosure agreements famosissimi e di cui abbiamo avuto modo di parlare anche in precedenti webinar qui su Aschieri Academy e poi gli accordi di lockout o comunque di esclusiva tali da limitare la possibilità che una volta avviato una trattativa il mio partner vada a fare lo stesso con altri N competitor. I motivi sono banali se vogliamo se io ho il macchinario e il mio partner nella rete non possiamo subito sottoscrivere un contratto o costituire una società dobbiamo prendere conoscenza della realtà di ciascuno e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scambiarci delle informazioni informazioni che a volte sono informazioni sensibili perché io devo dimostrare per esempio al mio partner che è alla rete commerciale che ho un bel macchinario che ho la struttura industriale per produrlo come lo produco qual è il valore aggiunto del mio macchinario e a me il mio partner mi dovrà dimostrare di avere una rete di tutto rispetto nel territorio quindi dovrà avere dei dealers dovrà avere dei sub dealers dovrà avere strutture dovrà avere magazzini ovviamente tutte queste informazioni devono essere veicolate e coperte da accordo di riservatezza allo stesso modo gli accordi di esclusiva mi sembrano abbastanza intuitivi perché ovviamente l'avvio di una trattativa per la costituzione di un progetto di joint venture comporta dei costi non indifferenti perché comporta sicuramente delle trasferte nel paese target comporta costi di consulenza legale e fiscale e anche perché no giuslavoristica e quindi ovviamente è importante tutelarsi reciprocamente per far sì che quel dialogo tra due imprenditori tra due imprese resti un dialogo coperto da esclusiva ovviamente in questa fase ci saranno tutta una serie di analisi che appunto per riprendere la slide di prima comportano dei costi per esempio bisogna analizzare le condizioni di mercato i competitors i prodotti simili se per esempio io voglio investire il mio macchinario voglio come dire investire in un paese in cui il mio prodotto è già come dire un prodotto in qualche misura ampiamente diffuso è evidente che devo pensarci bene a investire in quel paese a meno che non abbia qualcosa di veramente straordinario innovativo ma che però deve essere apprezzato sul mercato studio di fattibilità economica costi di produzione forza lavoro ma anche normativa fiscale e doganale su cui non sono competente perché sono progetti che evidentemente sviluppiamo in sinergia con i fiscalisti e anche accesso al credito studio della regolamentazione dell'attività del paese scelto e questa invece è sì una tematica estremamente importante per un professionista attivo nel legale nel settore legale perché nel momento in cui voglio andare a creare un prodotto un servizio in quello stato devo vedere anche che livello di protezione normativa ho o comunque che norme devo rispettare da molteplici punti di vista ingresso dello straniero all'estero normative bancarie normative fiscali normative doganali normative sui rapporti di lavoro e via discorrendo a questo punto ipotizziamo che tutti questi passaggi siano andati bene e cosa facciamo passiamo alla costituzione della joint venture ora quando parliamo di joint venture parliamo di joint venture contrattuale e di joint venture societaria quali sono le differenze ne abbiamo parlato più o meno già in apertura la joint venture contrattuale comporta che le due realtà imprenditoriali che convergono verso un progetto comune mantengono la loro identità e si vincolano solamente con un contratto torniamo all'esempio di prima io ho il mio prodotto il macchinario il mio partner straniero ha la rete ha la rete commerciale ha la rete distributiva e quindi ci mettiamo insieme contrattualmente per creare un mercato nel paese straniero questo lo possiamo fare come? ad esempio con un contratto di distribuzione il contratto di distribuzione soprattutto a livello internazionale è se vogliamo una forma tipica di una joint venture tra le parti soprattutto a sé questo contratto di distribuzione viene fatto a livello estremamente strutturato tali per cui le parti si vincolano reciprocamente al raggiungimento di obiettivi comuni ecco quando parliamo di joint venture contrattuale possiamo pensare a un contratto di distribuzione importante per entrare in un paese straniero oppure abbiamo la joint venture societaria la joint venture societaria è qualcosa di ben diverso perché abbiamo l'impresa A l'impresa B che insieme costituiscono la società C partecipandovi in misura uguale o non uguale e quindi cosa faranno condurranno il business attraverso la nuova società ovviamente capiamo bene che è un impegno molto ben diverso e anche più ampio rispetto alla contrattualistica vera e propria perché se col contratto di distribuzione io mi vincolo al banalmente progetto che ti fornisco il prodotto e tu me lo commercializzi nel tuo paese pattuendo determinati target di business di risultati attesi è chiaro che quando invece costituisco la società in aggiunta al progetto sul mercato entrano in gioco tutta una serie di regolamentazioni direi basilari importantissimi importantissime in termini di che cosa di rapporti tra soci di governance di amministrazione della società di organo di controllo della società chi sceglie chi fa cosa ecco che quindi la joint venture contrattuale è senza dubbio quella che merita maggiore attenzione e anche maggiore approfondimento con la joint venture contrattuale due o più società concludono un contratto con il quale si impegnano a collaborare allo scopo di offrire a un terzo committente la prestazione finale richiesta formata da apporti che i singoli partecipanti sono in grado di offrire l'accordo termina con il raggiungimento dello scopo e crea un legame di collaborazione meno stringente rispetto a quello che deriva dalla joint venture societaria il contratto di joint venture che cosa prevede innanzitutto le finalità dell'accordo e l'oggetto della futura attività quindi se vogliamo il progetto di business la struttura dell'organizzazione il regime di responsabilità la costituzione di un fondo comune la misura di partecipazione ai risultati la legge applicabile la clausola compromissoria e il foro competente ora senza limitarci a una mera lettura della slide mi sembra chiaro che quando io devo fare un'operazione di joint venture oltre al progetto in sé per sé e agli obiettivi attesi devo regolamentare anche la struttura cioè che struttura utilizziamo per fare funzionare il progetto che responsabilità abbiamo perché questo progetto nel caso in cui questo progetto dovesse generare delle criticità è evidente torniamo all'esempio di prima che se io produco il prodotto scusate il giro di parole cioè se io produco il macchinario non ci dubbio che debba attestarne la conformità alla normativa del luogo in cui lo devo andare a vendere non c'è dubbio che debba offrire un pacchetto di garanzia ufficiale non c'è dubbio che debba rispondere di tutte le conseguenze dannose che derivano da un prodotto eventualmente difettoso viceversa quindi ne rispondo in termini di produzione viceversa è evidente che il distributore di che cosa più che altro deve rispondere oltre che della veridicità del fatto di avere una rete commerciale anche della solvibilità dei clienti a cui questi prodotti vengono venduti quindi abbiamo dei regimi di responsabilità diversa a seconda di quelle che sono le competenze e i servizi che il facente parte della joint venture porta nel progetto e allo stesso modo bisognerà che questo progetto di joint venture sia capitalizzato in termini di appunto fondi a disposizione questo per la verità più nella joint venture societaria e bisognerà poi anche regolamentare in che misura si partecipano a quelli che sono i risultati attesi dalla joint venture e diciamo che è tendenzialmente in una joint venture contrattuale alla società principale è attribuito a un mandato a operare verso l'esterno quindi ipotizziamo ancora una volta l'ipotesi del contratto di distribuzione è evidente che chi si interfaccia con l'esterno sarà quell'impresa che mette a disposizione la rete commerciale e la rete vendita ovviamente attenzione questo per parlare proprio di casistica presuppone che il nostro dealer sia autorizzato a spendere il marchio dell'impresa produttrice quindi un contratto di distribuzione ben fatto e strutturato oltre a regolamentare la produzione e la distribuzione in sé per sé avrà bisogno anche di clausole ben costruite che regolamentano l'autorizzazione la licenza più tecnicamente parlando del nostro distributore del nostro dealer a utilizzare il nostro brand il nostro marchio il nostro come dire le componenti tipiche che esaltano il prodotto questo per un determinato periodo di tempo e a condizioni ben precise pena ovviamente la risoluzione del contratto non dimentichiamoci che sono tantissimi casi in cui io vendevo al mio distributore straniero un prodotto di colore giallo e poi il distributore si veniva a scoprire che si curava il nostro prodotto sul mercato ma parallelamente creava un prodotto secondario di colore giallo che quindi creava confusione nel pubblico per cui attenzione che queste nei contratti di distribuzione tipiche di una joint venture contrattuale sono sempre aspetti questi aspetti sono sempre importanti da regolare invece quando abbiamo la joint venture societaria i partecipanti costituiscono un vero e proprio soggetto giuridico come dicevamo in apertura chiaramente possiamo fare delle valutazioni sulla base di quella che è la conoscenza del diritto italiana quindi possiamo ipotizzare la costituzione di un SRL di una società per azioni oppure stato per stato si dovrà andare a vedere qual è la forma societaria corrispondente alla nostra SRL italiana o alla nostra società per azioni come io costituisco una joint venture societaria ricordiamoci sempre che a monte c'è sempre un contratto quasi sempre un accordo quadro o accordi separati per la verità questo un po' più raramente o semmai questi accordi separati sono allegati all'accordo quadro per questo in apertura dicevo che quando parliamo di joint venture di base è sempre necessaria una competenza a livello contrattuale ma poi si rende anche indispensabile una conoscenza a livello societario quindi se devo fare un aggiornamento societaria di base parto da un accordo quadro poi in esecuzione dell'accordo quadro costituirò la società qui abbiamo in questa slide alcune clausole diciamo alcuni contenuti tipici dell'accordo quadro che sono appunto gli accordi preliminari della società le regole di funzionamento la durata della società le modalità di risoluzione dei conflitti clausole di non concorrenza e ovviamente la legge applicabile o il foro competente o la clausola compromissoria ecco questo è importantissimo perché quando io scrivo un accordo quadro evidentemente cosa devo fare devo declinare in maniera estremamente precisa il progetto o gli obiettivi ma poi devo intervenire anche a livello societario quindi in maniera estremamente precisa bisogna dire che tipo di società costituisco entro quando la sostituisco entro quanto tempo la costituisco dove la costituisco con quali formalità e quindi bisognerà conoscere la legge del paese in cui si deve costituire la società dobbiamo dire che capitale sociale ha la società chi apporta cosa chi apporta know-how chi apporta beni dobbiamo ovviamente disciplinarne poi le regole di funzionamento tutto questo va messo nell'accordo quadro di modo che quando andremo a costituire la società e a scrivere lo statuto o i patti parasociali non faremo altro che dare esecuzione ad accordi già formalizzati gli accordi separati che regolano i rapporti possono essere avviamento know-how diritti di proprietà intellettuale prodotti o servizi devo dire per onestà che comunque questi accordi o sono contenuti nell'accordo quadro o comunque devono essere tra loro collegati quindi bisognerebbe utilizzare la tecnica del collegamento contrattuale qui abbiamo una massima interessante relativamente recente del tribunale di Milano che ci dice proprio questo il contratto di joint venture che contiene anche l'impegno giuridico delle parti di rispettivamente cedere di acquistare le partecipazioni di una società terza target può essere qualificato adottando i parametri interpretativi di cui agli articoli 1262 e 1263 come contenente anche un contratto preliminare di vendita rafforzato di partecipazioni sociali quindi l'accordo quadro nella misura in cui regola questi aspetti è stato proprio perché atipico proprio perché non regolamentato da recente giurisprudenza equiparato quasi a un contratto preliminare ovviamente di grande importanza sono anche le garanzie che i partner della joint venture si rilasciano reciprocamente garanzie di tipo formale e parliamo ovviamente di warranties e garanzie di tipo sostanziale cioè di representation di solito va bene viene previsto anche un indennizzo da corrispondere ai soggetti della joint venture che abbiano subito dei danni a causa delle dichiarazioni non veritiere e corrette esempio tipico io garantisco al mio partner italiano io sono un bravissimo partner cinese garantisco di avere la rete vendita e la struttura per commercializzare il prodotto ovviamente me lo devi dichiarare e garantire nel contratto e dobbiamo anche prevedere quelle che sono una conseguenza di una mancata corrispondenza a quanto mi stai dichiarando cioè se si scopre che tu non hai nessuna rete vendita abbiamo scherzato come si suol dire nel senso che abbiamo investito tempo e denaro ma poi ti sei rivelato un partner non affidabile molto spesso la joint venture non si limita solo alla commercializzazione di un prodotto si limita anche a una costruzione congiunta tipico esempio io produco i componenti di un prodotto in Italia li trasporto nel paese target potrebbe essere la Cina come potrebbe essere gli Stati Uniti in qualsiasi paese e in quel paese vengono assemblati e finiti in base a delle tecniche di costruzione condivise è evidente che il mio partner situato in Cina piuttosto che negli Stati Uniti mi deve garantire di avere che cosa? strutture mezzi e risorse e personale e questo me lo deve garantire contrattualmente assumendosi le responsabilità e le conseguenze di un inadempimento contrattuale quando parliamo di una joint venture societaria ovviamente dobbiamo avere in mente quelli che sono quelli che sono gli atti tipici e quelle che sono poi le clausole tipiche di questo istituto qui intanto abbiamo messo le clausole statutarie i patti parasociali la clausola simul stabunt simul cadent le clausole di gradimento i diritti di predazione iniziamo a fare una breve carrellata di questi argomenti le clausole statutarie sono quelle più importanti perché soprattutto visualizzando l'argomento sotto il diritto italiano sappiamo bene che lo statuto costituisce la legge della società cioè lo statuto è il documento principale che regola l'andamento e le modalità di governance della società poi abbiamo i patti parasociali che come sappiamo bene sono di fatto dei veri e propri contratti anche per la verità lo statuto è un contratto ma i patti parasociali sono dei contratti all'atere dello statuto che servono per mettere dentro tutte quelle pattuizioni che i soci della società non possono o non vogliono inserire nello statuto viste le conseguenze dei suoi documenti di cui poi parleremo la clausola simul stabunt simul cadent a proposito di casistica è una delle clausole tipiche cosa vuol dire questa clausola ipotizziamo che noi abbiamo creato una società in cui convergono tre gruppi imprenditoriali per un progetto comune da sviluppare su un determinato mercato ebbene è evidente che i tre gruppi imprenditoriali dovranno avere il diritto di nominare almeno un proprio amministratore cioè dovranno concorrere nella nomina dell'organo amministrativo che come sappiamo è l'organo più importante ebbene attraverso questa clausola sicuramente nota a più persone si può fare in modo che se per qualsiasi causa viene meno uno degli amministratori a quel punto vengono meno tutti gli altri e si deve tornare quindi in assemblea soci a costituire l'organo amministrativo allo stesso modo le clausole di gradimento sono molto importanti perché ipotizziamo che abbiamo costituito una società per vincolarci e proiettarci verso un progetto comune e a un certo punto arriva un potenziale terzo acquirente interessato a entrare nella società è evidente che in alcun modo questa possa essere una libera compravendita deve essere assoggettata a delle clausole una delle quali a quelle di gradimento tale per cui il socio che non compravende può come dire esprimere il proprio gradimento il proprio mancato gradimento a questa operazione allo stesso modo i diritti di predazione aiutano perché se il mio partner un giorno decide di vendere la sua quota o la sua partecipazione azionaria della società io socio restante ho diritto di poterla acquistare in prelazione all'aspirante acquirente alle medesime condizioni è importante ovviamente anche l'organo amministrativo come in tutte le società anche una joint venture societaria ha un organo amministrativo quindi sono previsti dei meccanismi che garantiscono quantomeno nell'esperienza e nella prassi a tutti i soci un'idonea partecipazione all'amministrazione quindi anche a livello statutario bisognerà andare a regolamentare i criteri di nomina degli amministratori la clausola appunto di Simo Stabon Simul Cadent sempre abbastanza preferibile e poi anche in caso di deadlock cioè in caso di stallo nella decisione dell'organo amministrativo si può valutare di attribuire un voto decisivo al presidente del diritto del consiglio di amministrazione o la decisione della controversia ai presidenti delle società madri ai soci attenzione perché il voto prevalente o il cosiddetto casting vote quindi il voto il diniego attribuito al presidente del consiglio di amministrazione se negli stati stranieri a livello internazionale è una misura largamente applicabile cioè per esempio l'abbiamo vista Cina piuttosto che negli Stati Uniti non è sempre come dire da applicare per scontato per quanto riguarda invece le società di diritto italiano stante la presenza di giurisprudenza che non italiana che non attribuisce non vede mettiamola così di buon occhio la possibilità di dare al presidente del CdA un voto prevalente o un diritto di veto piuttosto si prevede ed è una tecnica contrattuale che in caso di stallo per esempio per una o due sedute del CdA su un tema l'argomento sia per esempio rimesso alla decisione dei soci ed infatti veniamo ai soci che possono prevedere quorum costitutivi e deliberativi qualificati e riservare espressamente alcune materie all'assemblea anziché al CdA il consenso di tutti i soci può essere determinante nel caso inquisivo previsto nell'atto costitutivo per la modifica della composizione della nuova società ad esempio impedendo al socio di maggioranza di modificare unilateralmente l'inquilibrio interno attraverso aumento di capitale sociale o altre modifiche statutarie questa è un'ipotesi tipica a livello societario cioè per le decisioni diciamo così più basic si richiede sicuramente una maggioranza del 50% più 1 del capitale sociale molto spesso le joint venture vengono costituite con una società in cui magari un socio ha il 51% e l'altro il 49% questo gli attribuisce di default una maggioranza nelle decisioni assembleari tuttavia proprio per arginare questa maggioranza per le decisioni più rilevanti si pattuisce che per appunto ad esempio un aumento di capitale sociale una trasformazione della società una decisione che comporta un investimento abbastanza rilevante ecco per queste decisioni si contemplano delle maggioranze cosiddette qualificate ad esempio i due terzi del capitale sociale questo cosa significa che se io ho il 49% e il mio partner il mio socio ha il 51% comunque il mio socio non potrà mai assumere da solo una decisione che sia come dire rilevante per l'andamento della mia società della nostra società da ultimo l'organo di controllo anche qui diciamo che è un argomento tipico di tutte le società e ovviamente ci sta anche dentro le joint venture nel senso che se io costituisco in Italia una società per azioni una joint venture sotto forma di società per azioni il mio organo di controllo sarà evidentemente obbligatorio mentre se costituisco una SRL la obbligatorietà dell'organo di controllo è rimessa alla sussistenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2477 del codice civile che trovate qui proiettato a questo punto possiamo passare un po' alle clausole tipiche a livello proprio di redazione di statuti o di patti parasociali una cosa che spaventa nella nostra esperienza applicativa i soci di una joint venture è proprio che cosa il deadlock cioè lo stallo decisionale proprio perché molto spesso le joint venture contengono partecipazioni al capitale in misura uguale o poco meno di uguale spesso e volentieri si rischia uno stallo e lo stallo non dobbiamo mai darlo per scontato perché se siamo abbezzi alla struttura al funzionamento di una società siamo soprattutto in Italia capaci di vedere imprese familiari che non vanno bene imprese familiari che si bloccano proprio per disaccordo dai familiari figuriamoci in una società in cui convergono due gruppi imprenditoriali totalmente differenti totalmente radicati già con la propria struttura con la propria azienda che si mettono insieme per un progetto comune e le ipotesi di disaccordo ahimè possono essere tante proprio per questo bisogna pattuire dei rimedi di risoluzione dello stallo qui abbiamo un po' di clausole per esempio la cooling off prevede che la questione venga rimandata ad una successiva riunione dell'organo con l'impegno di creare e cercare di trovare delle soluzioni oppure la clausola di move up che prevede che la decisione venga rimandata al board of directors quindi al consiglio di amministrazione la clausola side move cioè nel caso in cui persista una situazione di blocco si stabilisce che si debba consultare un terzo quindi una sorta di arbitro un terzo che possa risolvere la questione e la clausola termination interviene se nessuna delle precedenti opzioni sia stata risolutiva oppure il way out cioè che quindi consente di interrompere la collaborazione tra i partners ricordiamoci anche che tra le clausole tipiche abbiamo le clausole di lock up che contemplano il divieto ai soci per un periodo prestabilito di trasferire il divieto di trasferire le proprie partecipazioni il motivo è autoesplicativo se io imprenditore tizio mi vincolo a imprenditore caio magari attraverso una società per sviluppare un progetto un prodotto un servizio su un determinato mercato è evidente che questo lo farò sulla base di un piano industriale di un business plan che richiedono tempo per la loro applicazione cosa facciamo allora per il raggiungimento dell'obiettivo ipotizzando ad esempio che il piano industriale e il business plan chiedano ad esempio due anni perché la società inizi ad avere redditività ci accordiamo a livello di statuto preferibilmente che per quei due anni nessuno di noi possa in alcun modo uscire dalla società questo per preservare proprio il progetto questi accordi questo è molto importante dirlo devono avere una durata limitata proprio perché è una limitazione alla propria libertà di disporre della propria partecipazione e quindi abbiamo cinque anni per l'SPA due anni per l'SRL a supporto abbiamo tante altre clausole di casistica tipica della joint venture una di queste è la clausola tagalong attribuisce ai soci di minoranza quindi ad esempio a chi ha il 49% il diritto di vendere le proprie partecipazioni al terzo estraneo al terzo acquirente che intende acquistare una partecipazione di maggioranza alle stesse condizioni quindi se domani arriva tizio aspirante acquirente del 51% del capitale sociale detenuto dal mio partner ne devo essere notiziato e io ho il diritto di vendere anche il mio 49% oppure abbiamo l'opzione inversa abbiamo la famosa dragalong che attribuisce al socio di maggioranza di vendere al terzo unitamente alla propria partecipazione quella dei soci di minoranza alle medesime condizioni anche la ragione di questa clausola è autoesplicativa il mio acquirente io ho il 51% del capitale sociale il mio acquirente ipotizziamo un fondo di investimento o un grosso competitor mi dice sì la vostra società è molto bella ma non me ne faccio niente del 51% perché mi potrei trovare a litigare col socio di minoranza ecco con questa clausola si neutralizza questo rischio perché il socio di maggioranza può trascinare il socio di minoranza alla vendita allo stesso modo la clausola di Briga Long prevede che il socio di maggioranza abbia la possibilità di offrire al terzo anche le partecipazioni del socio di minoranza però in questo caso spetterà al terzo la decisione se acquistare o meno l'intero capitale sociale a differenza di quella precedente in cui il terzo invece è vincolato qui ci diamo passando allo statuto una definizione normativa italiana di quello che è proprio di quella che è l'efficacia dello statuto lo statuto ha il potere di vincolare tutti i soci presenti e futuri e deve essere redatto per atto pubblico appena di nullità ecco qui troviamo proprio quello che dicevamo prima lo statuto altro non è soprattutto sotto il profilo della legge italiana che la legge della società lo statuto è vincolante chi non lo rispetta oltre a profili di responsabilità può essere anche oggetto di una azione di esecuzione in forma specifica ad adempiere proprio perché lo statuto per definizione ha un'efficacia reale a differenza come vedremo del patto parasociale cos'è il patto parasociale? il patto parasociale è una convenzione stipulata tra i soci fuori dall'atto costitutivo per regolamentare i rapporti intercorrenti fra gli stessi e stabilizzare gli assetti proprietari del governo della società tali accordi a differenza dello statuto hanno forza di contratto e valgono solo per i sottoscrittori ecco questa è la differenza principale con lo statuto intanto lo statuto dura quanto dura la società mentre il patto parasociale può durare massimo 5 anni nelle società per azioni e per quanto riguarda le SRL italiane per la verità questo limite si ritiene non applicabile ma spesso e volentieri si utilizza lo statuto perché certe clausole non possono essere o non vogliono essere inserite nello statuto e vengono quindi inserite nel patto parasociale ovviamente cosa si rende necessario? si rende necessario un'attentissima valutazione rispetto a quello che è l'esigenza del caso concreto ad esempio il casting vote quindi il diritto di veto in capo a un amministratore o il diritto di voto prevalente è qualcosa che uno statuto italiano non sempre può trovare applicazione proprio perché si ritiene in secondo parte di giurisprudenza dottrina non applicabile ma tuttavia se non inserito nello statuto questo impegno questa come dire volontà potrebbe comunque essere oggetto di patruzione parasociale e così via se io non voglio mettere nello statuto quelle che sono per esempio i criteri di nomina del consiglio di amministrazione o quelli che sono i diritti dei soci determinati diritti questi possono inserirli in un patto parasociale che tra l'altro a differenza dello statuto non è un atto pubblico mentre lo statuto è liberamente consultabile il patto parasociale resta un contratto esclusivamente a livello privatistico e qui diamo proprio la definizione tipica della differenza tipica tra statuto e patto parasociale lo statuto prevale sempre sul patto parasociale lo statuto ha effetti reali quindi le regole sono valide per tutti i soci presenti e futuri differenza dei patti parasociali che hanno efficacia obbligatoria quindi diciamo l'inadempiente è come dire si espone a una sola azione dell'esarcimento del danno io avrei concluso resto a disposizione di Greta e dei partecipanti per eventuali domande grazie ci chiedono come vede le clausole di put call oppure Russian roulette per soluzione dello stallo ma allora bene entrambi nel senso che nel senso che la put call ovviamente è un se vogliamo anche uno strumento abbastanza tipico per risolvere uno stallo attraverso una una clausola che si può bene inserire sia a livello statutario sia a livello di patto per la sociale tale per cui in caso di stallo io esercito il diritto di appunto put quindi praticamente il diritto di vendere la mia partecipazione sociale un po' meno per la verità la Russian roulette perché ovviamente come dire è un po' rimessa all'aleatorietà e non sempre incontra il favore degli imprenditori perché ricordiamoci sempre che la la costituzione di una joint venture comporta soprattutto a determinati livelli di mercato costi e investimenti e tempo per cui la rimessione di uno stallo a una Russian roulette non sempre viene vista in maniera come dire perfettamente risolutiva rispetto a quello che invece può essere per esempio una put o le altre clausole che abbiamo visto adesso grazie allora ci viene chiesto per i paesi in via di sviluppo le joint venture che trovano la loro condizione di accordi per il commercio sono garantite riguardo alle norme internazionali sui brevetti laddove alcuni paesi non hanno ratificato gli accordi in quel caso le garanzie ricadono sotto il controllo del ministero per il commercio per l'estero no se le stati non hanno aderito alle convenzioni e questo è un tema importante bisogna stabilire qual è la legge applicabile al rapporto contrattuale ovviamente se questa è una delle analisi più importanti che deve fare un legale cioè quando si crea una joint venture in uno stato estero bisogna prima di tutto decidere sotto quale legge l'intero rapporto contrattuale debba essere regolato perché se assoggettiamo il nostro rapporto a una normativa locale che non contiene protezioni e questo sinceramente è stato il caso della Cina fino a almeno 15 anni fa questo comporta ovviamente il rischio che la nostra proprietà intellettuale sia copiata senza che vi siano delle protezioni importanti per cui un'analisi assolutamente imprescindibile è proprio la legge applicabile o la convenzione applicabile ed eventualmente anche delle forme di garanzia grazie allora rimaniamo in attesa di altre domande nel caso in cui ve ne fossero ecco infatti è appena arrivata una la violazione della clausola di prelazione se contenuti in statuto consente al socio prelazionario di riscattare la quota azione ceduta gode di una contenuta reale assoluta assolutamente sì assolutissimamente sì se contenuti in uno statuto ovviamente parliamo di legge italiana quindi non chiaramente la legge italiana può differire da una legge straniera però sulla base di una legge italiana se il mio diritto di prelazione viene leso ho tutto il potere per attivare il tribunale delle imprese o l'arbitrato a seconda di quello che è lo statuto per chiedere il rispetto cioè l'applicazione del così non si potrebbe dire se invece questa prelazione fosse contenuta in un patto parasociale proprio per i motivi che dicevamo prima ti ringrazio poi un'altra domanda quali rimedi in caso di violazione di tutele brevetti da parte di uno stato come la Cina dove i tribunali notoriamente danno sempre torto al contraente non cinese ottima domanda il suggerimento è un arbitrato i contratti a livello internazionale devono sempre escludere dal mio punto di vista soprattutto se andiamo in stati normativamente diciamo così deboli o poco chiari devono prevedere ovviamente a chi ci dobbiamo rivolgere se iniziamo a litigare bene bisogna strutturare una clausola arbitrale cioè evitare di andare a finire nei tribunali nazionali esteri dove chiaramente bisogna parlare la loro lingua mentre con una clausola arbitrale di rango internazionale ovviamente le regole del gioco cambiano mi rendo conto che chiaramente aggiungo ovviamente un arbitrato soprattutto magari per esempio un arbitrato svizzero un arbitrato francese ha costi ben più ampi ed elevati rispetto a una causa in un tribunale ma dall'altro lato ha la sicurezza che sia che il caso sia affrontato in maniera seria in tempi anche abbastanza rapidi grazie e poi lo stesso partecipante ci ha appena scritto un'altra domanda in chat ma quali garanzie che il lodo risolto a favore del contraente non cinese venga osservato la garanzia sta nel fatto che il cinese che firma il contratto si vincola al rispetto di quella convenzione di quella clausola compromissoria e quindi avendo firmato un contratto che tra l'altro può essere regolato non dalla legge straniera ma da una convenzione internazionale piuttosto che dalla legge italiana in quel caso lì è evidente che il cinese non avrebbe comunque il cinese stiamo dicendo il cinese ma comunque il nostro partner straniero non potrebbe esimersi dal assoggettarsi alla alla clausola arbitrale l'importante ripeto è che da un punto di vista legale a monte dell'intera operazione sia fatta un'accurata analisi della legge straniera delle convenzioni internazionali applicabili e quindi poi si è fatta una scelta di legge applicabile mi sembra di aver detto tutto quindi domenico io non mi resta che ringraziarti grazie a voi è stato un piacere averti qui con noi grazie per la tua disponibilità e ringrazio ovviamente tutti coloro che che ci hanno seguito e che hanno partecipato al webinar di stasera grazie di nuovo e buona serata a tutti arrivederci Greta e buonasera a tutti arrivederci